buongiorno c'era un particolare che mi stava sfuggendo anche perché non era particolarmente evidenziato in questi giorni sarà perché questo nome si era un po dimenticato sarà perché essendo indisponibile da tempo non si parlava più di lui ma mi sto riferendo a juan quadrado juan quadrado che le cronache da piano gentile dicono stia facendo di tutto per rientrare ed essere presente allo stadium cosa assolutamente lecita primo perché fa il calciatore e quindi immagino che abbia molta voglia di tornare in campo e da molto tempo che non che non gioca ma anche alla juve si era abituati ogni tanto ad averlo fuori certo quest'anno gli è andata abbastanza male fino adesso nel senso che ha esorbito e iniziato con l'inter e poi ha avuto questo credo un'infiammazione perdurante non so adesso non mi ricordo se era il ginocchio o quant'altro adesso non lo so quindi uno perché giustamente ha tanta voglia di giocare e quindi di svolgere il suo lavoro in questo anno che ha firmato per l'inter e due perché è evidente che abbia tanta voglia di giocare contro la juventus contro la juventus il suo contro la juventus è un sentimento che nasce dal fatto di essersi sentito messo da parte lui si aspettava un prolungamento di contratto che non c'è stato c'era stato un rinnovo automatico se vi ricordate automatico perché erano scattate determinate condizioni e lui si aspettava che a questo rinnovo automatico seguisse diciamo così una proposta di ulteriore allungamento di rinnovo automatico era di un anno solo si aspettava dunque un prolungamento da parte della juventus ecco dopo di che siccome non è arrivato questo prolungamento lui era liberissimo di fare ciò che intendeva capisco il risentimento di gran parte se non di tutto il popolo juventino nei suoi confronti perché è vero che smetti di giocare dopo tanti anni credo otto anni nella juventus dopodiché decidi di firmare per l'inter cioè proprio per l'inter con tutte le squadre che ci sono in giro è chiaro che il risentimento è più che giustificato è stata una scelta da professionista sicuramente in primis perché comunque l'inter gli offriva una grossa opportunità l'opportunità di andare a giocare in una grande squadra l'opportunità di partecipare a una champions che la juve non poteva fare quest'anno nonostante si fosse qualificata l'opportunità perché no perché no perché bisogna metterci dentro anche questa l'opportunità di come dire provare un po a rivalersi sportivamente nei confronti della juventus sono tutte motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta dell'inter noi abbiamo dei precedenti nel passato di giocatori che non hanno accettato proposte da squadre rivali nonostante magari scadesse il contratto si trovassero in difficoltà parlo di tutte le squadre in questo caso di molti giocatori di diverse squadre specificatamente per quanto riguarda la juventus io ricordo che dopo calciopoli con la juve in b prima che iniziasse il campionato di serie b quell'estate murino fece una corte spietata a nedved e a buffon che si rifiutarono di andare a giocare con l'inter ma lì c'era una situazione diversa erano ancora sotto contratto con la juve ma mi sento di dire sinceramente che anche fossero stati in scadenza di contratto non avrebbero firmato per l'inter ci sono stati altri giocatori che hanno avuto questa opportunità di andare a giocare in squadre rivali e che non hanno accettato di andare a giocare in squadre rivali nell'inter per esempio c'è cialanoglu che invece alla scadenza del contratto ha deciso con il milan ha deciso di andare a giocare appunto con i nerazzurri cioè vedete che le situazioni sono diverse e ognuna si porta dietro una storia particolare sulla scelta di quadrado è chiaro che ha infuito comunque l'idea di rivalersi un po' nei confronti della juve che non gli aveva prolungato il contratto ma non c'è niente di male voglio dire è una cosa del tutto naturale che verrebbe probabilmente a chiunque si sentisse in una condizione di questo genere o comunque a molti a molti credo che molti avrebbero fatto questo tipo di scelta altrettanti probabilmente non l'avrebbero fatto la domanda curiosa è uno se ci sarà ovviamente perché sta tentando di recuperare scusatevi come verrà raccolto dallo stadium? io la risposta la so già io la risposta la so già perché è chiaro che mi viene in mente quagliarella quando tornò con la maglia del Torino allo stadium ok e fu un'altra cosa uscì ne abbiamo parlato qualche video fa con una stand innovation si era posto in maniera decisamente diversa lì si era capito che il percorso era finito aveva accettato di andare al Torino perché era già stato al Torino perché conosceva l'ambiente con quadrado io credo che sia un po' diversa la situazione credo che ci sarà se giocherà sarà presente naturalmente credo che la maggior parte del popolo bianconero lo fischierà ed esternerà questo risentimento nei suoi confronti che ripeto sportivamente ci sta purché non si arrivi a determinati livelli a determinate offese non credo che si arrivi ai livelli di Lukaku con l'Inter con la maglia della Roma che abbiamo visto qualche settimana fa però insomma credo che sia normale che lui possa vivere una giornata un po' un po' particolare un po' particolare io credo che tra compagni non ci sarà nulla non si vedrà la scena tipo Lautaro che non dà la mano o comunque che non guarda in faccia Lukaku al momento di fregnersi la mano tra compagni tra ex compagni sarà sicuramente una situazione molto diversa anche perché quadrado un ragazzo molto simpatico molto gioviale che fa spogliatoio che fa cacciara e quindi credo che tutti alla Juve lo stiano ricordando con immenso affetto sto parlando degli ex compagni per quanto riguarda il pubblico naturalmente sarà libero di esprimersi come vuole in ogni caso vediamo se ci sarà sponda Juve le notizie dicono ancora di un locatelli un po' indietro quindi a questo punto io credo che sia molto difficile però aspettiamo quello che succederà nella giornata di oggi questa sera cerchiamo di essere un pochino più precisi mentre procede il recupero di alexandro questo l'abbiamo dato per assodato ma soprattutto di fabio miretti che sta meglio si è allenato con il gruppo la lombalgia sembra una situazione passata vedete come è diversa a volte no perché per l'auice è durata due tre settimane per lui praticamente una settimana e si è in pratica rimesso a posto e quindi potrà giocare lui da interno del centrocampo quasi certamente con rabbio in mezzo con cambiaso a destra e costi a sinistra sostanzialmente quello che c'erano come ho detto ieri persiste ad ora mentre vi sto parlando l'idea di far partire Ken in coppia con con Chiesa però per tutto il resto vi rimando a questa sera e naturalmente anche alla conferenza stampa di domani però andiamo con ordine ci vediamo questa sera ciao ragazzi